Nel mondo delle criptovalute, secondo CoinGecko, al momento la capitalizzazione dei progetti che hanno qualcosa a che vedere col mondo delle AI è di soli 26 miliardi di dollari. Direi secondo me che di margine di crescita ce n'è come, soprattutto in un mercato così speculativo come quello delle criptovalute. Un mercato che secondo me, nel solo mondo delle criptovalute, dai 26 miliardi attuali, potrebbe per davvero sfondare il trilhiardo di dollari. Sono pazzo? Fammi sapere nei commenti se pensi che sono pazzo o fammi sapere nei commenti se pensi che io abbia ragione. Io sono Leonardo Di Malati di Cripto e in questo video cercherò di capire se effettivamente questa nuova narrativa ha senso o se invece è solo una semplice speculazione. Vorrei cercare di andare oltre alla narrativa, al trend, alle citazioni del momento e capire se ci sono dei progetti con dei fondamentali solidi. Per questo oggi analizzeremo 5 progetti in maniera abbastanza rapida del mondo delle criptovalute e dell'intelligenza artificiale. Ma prima di iniziare, come sempre, disintegriamo quel tasto mi piace. Facciamo confondere nel video sull'AI l'algoritmo di YouTube. E se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetemi per non perdervi le prossime analisi bomba che ho in servo per voi. Il primo progetto che voglio analizzare è Render Network, che permette agli artisti e creatori di contenuti digitali di fare rendering senza doversi preoccupare troppo dei costi e delle attrezzature hardware. Praticamente funziona mettendo in comunicazione chi ha bisogno di questa potenza di calcolo e chi invece ha questi dispositivi, questi computer, con cui non sta utilizzando la potenzialità di calcolo. E ovviamente in cambio chi presta questa potenza di calcolo riceve dei token. L'idea è quella di rendere il rendering grafico più facile e meno costoso per tutti. E questo processo funziona attraverso una serie di passaggi chiave. Il primo lo possiamo richiamare offerta e domanda. Praticamente gli utenti caricano il proprio progetto all'interno di questo network, di questa rete e specificano quale tipo di risorsa computazionale hanno bisogno per il loro rendering. E ovviamente allo stesso tempo ci sono gli utenti che hanno quel tipo di potenza di calcolo non utilizzata che lo mettono a disposizione per i creatori. Poi abbiamo un secondo fase in cui avviene un abbinamento. Il sistema abbina domanda e offerta assicurandosi che però tutto questo venga fatto in maniera efficiente. Poi abbiamo l'elaborazione che avviene una volta che si è stabilito l'abbinamento più congruo per gli utenti dove praticamente i dati del progetto vengono inviati in modo sicuro a quell'utente che deve occupare di fare il lavoro di rendering. Infine abbiamo la consegna e la ricompensa. Dopo che è stato fatto il lavoro il progetto viene ritornato all'utente che ha richiesto il rendering e ovviamente come abbiamo detto l'utente che ha fornito questo lavoro, questa prestazione, riceverà in cambio dei token come pargaramento per il servizio che ha offerto. Il token della rete si chiama render o se lo trovate in versione rndr è perché il token viveva sulla rete di Ethereum, solo che al momento è stato trasferito sulla rete di Solana, questo per avere un'ottimizzazione nella velocità e nel pagamento delle file delle transazioni. Il token appunto permette ai creatori di pagare per i servizi di cui hanno bisogno e permette a chi offre il servizio, a chi offre la potenza di calcolo, di ricevere un pagamento. Mentre il sistema di pagamento del token funziona sulla rete di Solana, il sistema di rendering e tutto il funzionamento di questa blockchain funziona sulla sua blockchain proprietaria. Un'altra cosa interessante di questo progetto è che è stato fondato da un'azienda che si chiama Outoy, un'azienda che lavora nel campo del rendering da tantissimi anni, da molto prima di creare questo progetto e questo fa sì di avere alle spalle un'azienda seria che sviluppa un prodotto di cui conosce veramente tutti gli aspetti. Render innegabilmente è molto interessante perché ha un vero e proprio mercato, ma come sempre nei progetti di criptovalute bisognerà vedere se si potrà andare oltre alle belle aspettative e avere una reale adozione da parte degli utenti e da parte dei creatori di contenuti. Il token tra l'altro insieme a quasi tutti gli altri token di questo video lo potete trovare su BingX che vi ricordo che è uno degli exchange che ho deciso di utilizzare quest'anno soprattutto per la speculazione dei token quelli più piccoli che non sono facilmente trovabili ovunque. Comunque se vi interessa iscrivervi e sopportare il canale vi lascio il link in descrizione che vi permetterà anche di avere dei bonus di benvenuto una volta depositato i primi dollari. Poi abbiamo SingularityNet, un altro di quelli che possiamo definire pilastri delle criptovalute che si fondono con l'intelligenza artificiale. Singularity è come un grande mercato online che aiuta le persone a usare e creare servizi di intelligenza artificiale. Tutto questo applicato con la tecnologia della blockchain. È un posto praticamente dove gli sviluppatori che si occupano di produrre prodotti di intelligenza artificiale possono vendere quei prodotti direttamente al consumatore finale ed è un posto dove noi direttamente possiamo comprare quel tipo di prodotti. L'idea dietro a questo progetto è quello che l'intelligenza artificiale e i suoi strumenti non vengono controllati in un futuro solamente dalle grandi corporazioni, dalle grandi aziende, ma che possa in realtà crescere e migliorare con l'aiuto di tutti, renderlo più democratico e soprattutto avere una crescita tecnologica dettata dalla collettività, dall'unione di più persone. Ovviamente sono tanti e buoni propositi, ma come sempre sappiamo che la competizione con queste grandi corporazioni non è mai facile per prodotti di questo genere. Una cosa interessante è che tra l'altro i prodotti che troviamo all'interno di questa piattaforma tecnicamente potrebbero anche iniziare a collaborare tra di loro e dare vita a dei sistemi molto più complessi. E in più un'altra cosa interessante è che troviamo all'interno ovviamente di questo ecosistema di AI anche la possibilità, siccome sono all'interno della propria blockchain, di avere integrato un sistema di pagamento. Ovviamente il token è al centro di tutto, questo perché si utilizza per l'acquisto di questi servizi e come incentivo a sviluppare piattaforme di alta qualità o intelligenze artificiali di alta qualità. Se mi permettete, una delle cose più interessanti è che uno dei co-fondatori è veramente una personalità di spicco nel mondo dell'intelligenza artificiale, il dottor Ben Goerzel. In sintesi singolari ti nasce perché cerca di democratizzare quello che è l'intelligenza artificiale e i suoi prodotti. Cerca di rendere attraverso la sua piattaforma i prodotti AI molto più accessibili. Però a livello di utilizzo e soprattutto a livello di unicità all'interno del mercato mi sembra quella un po' più povera o meglio mi sembra quella un po' più debole dal lato della narrazione. Ah, ci sono gli ultimi posti disponibili per provare l'applicazione Portafoglio che sto lanciando che vi aiuterà a gestire al meglio le vostre criptovalute in questo ciclo razzista. Mi raccomando, vi lascio in descrizione il form da compilare per dimostrarmi il vostro interesse. Vi farò sapere al più presto se avrete uno dei posti disponibili. Poi abbiamo Bitensor, probabilmente uno dei progetti più solidi di questo video. Nell'obiettivo è molto simile a quello che offre Singularity, ma in realtà nel modo in cui lo offre e soprattutto nella progettazione nell'ecosistema, la rende qualcosa di veramente unica e qualcosa di veramente interessante per chi come noi vive nel mondo delle criptovalute. Anche qua troviamo un obiettivo nella democratizzazione di quello che è l'intelligenza artificiale e il machine learning, con un'enfasi molto importante sulla condivisione della potenza computazionale e dei dati. Questo perché al momento solo le grandi aziende si possono permettere di allenare in una maniera molto intensa le intelligenze artificiali perché appunto hanno dei costi elevatissimi. Utilizzando invece un modello unico basato sulla blockchain, Bitensor consente agli sviluppatori di AI di contribuire con i loro modelli e ricevere incentivi in base al valore che apportano nella rete. Bitensor funziona attraverso dei meccanismi veramente chiave, possiamo definire. Il primo sono i nodi e i contributi. Gli sviluppatori possono unirsi alla rete offrendo modelli AI o potenza computazionale. I nodi possono essere sia fornitori che consumatori dei servizi di intelligenza artificiale, in base ovviamente alle loro esigenze a quello che hanno disponibile. Poi abbiamo un processo di valutazione e incentivazione, dove i contributi dei nodi vengono valutati in base alla loro utilità e qualità. Questo viene fatto attraverso un meccanismo di consenso che assicurano una valutazione equa e trasparente. E poi ovviamente abbiamo un processo di ricompensa di tokenizzazione, dove i nodi vengono ricompensati in base al lavoro che hanno svolto. Bitensor è come una grande rete che però è composta da tanti piccoli gruppi chiamati subnet. Ogni gruppetto si concentra su un argomento specifico e funziona grazie a un sistema che motiva i minatori a operare nel rispetto delle regole, premiandoli ovviamente se fanno bene. Questi subnet immagini come i circuiti nel cervello dei neuroni, dove ogni parte ha un ruolo specifico. Alcuni neuroni sono come i controllatori che ricevono informazioni dall'esterno, mentre altri, i minatori, lavorano dietro alle quinte e comunicano solo con i controllori. I controllori non parlano tra di loro e lo stesso vale anche per i minatori. Praticamente Bitensor ha tre cose veramente importanti. I subnet, una blockchain di base che garantisce che tutte le ricompense siano sicure e trasparenti, e un API che funge da ponte e che collega la blockchain alle subnet. Il token di Bitensor si chiama TAO e viene utilizzato per premiare i contributi dei nodi, sia come dicevo prima in termini di potenza computazionale condivisa, oppure in termini di modelli AI che sono stati condivisi. Il token ovviamente viene anche utilizzato all'interno della blockchain per poter comprare potenza computazionale oppure servizi dell'AI. E un'altra cosa molto interessante è che ha preso tantissimo dall'economia della moneta di Bitcoin. Infatti troviamo un lancio eco, pensate che addirittura nemmeno i fondatori, nemmeno il team hanno avuto dei token pre-lanciati, pre-creati, ma come tutti gli altri hanno dovuto minarli. Dunque, questi token appunto vengono prodotti attraverso il mining e hanno una capitalizzazione massima di 21 milioni. Le applicazioni di Bitensor sono moltissime e abbracciano tantissimi settori differenti, tra cui la ricerca scientifica, l'analisi finanziaria, lo sviluppo di videogiochi o addirittura la sicurezza informatica. In sintesi, sulla carta sembra essere un progetto bomba. Ovviamente, come sempre, per definire di successo questi tipi di blockchain, questi tipi di progetti, dovremmo vedere l'adozione, l'adozione. Perché ovviamente sulla carta sembrano tutti fantastici, ma io rimango sempre un po' con quel punto di domanda in testa. Però, veramente ben fatto, veramente ben fatto. Penultimo token, un token veramente particolare, ve lo dico già, metto le mani avanti perché ci sono delle regioni specifiche per cui ho messo all'interno di questa lista questo token, che probabilmente non avrete mai sentito parlare. Si chiama ChainGPT. Già dal nome capirete che è più o meno un progetto dettato dal marketing, in cui il team, scusate se lo dico, è una mia speculazione, ma cerca di cavalcare l'onda dell'AI. Però, in un mondo pieno di speculazione, mi sembrava anche giusto iniziare a introdurre dei token riguardo all'AI che possono essere definiti di pura speculazione, per cavalcare anche noi l'onda insieme a tutti gli altri. Perché, ovviamente, la maggior parte dei token di cui sto parlando in questo video hanno già delle capitalizzazioni abbastanza alte. Infatti, la maggior parte li troviamo nella classifica delle top 100 criptovalute al mondo. Però, come ben sapete, siccome siamo in un bull market e inizierà un'onda speculativa quest'anno, cosa che è già anche iniziata, sarebbe intelligente iniziare anche a guardarsi intorno e capire se ci sono dei progetti che hanno anche un potenziale un po' più speculativo rispetto a solo delle fondamenta veramente solide. E questo progetto, secondo me, rispecchia queste caratteristiche. Questo è un progetto AI che non offre qualcosa di specifico come quelli che abbiamo visto prima, ma in realtà offre dei prodotti, dei servizi, servizi che possono essere comprati col loro token. Però i prodotti creati sono appositamente fatti per il pubblico, diciamo possiamo definirlo mainstream, e come vedete abbiamo un CGPT chatbot, abbiamo un assistente per il trading, oppure abbiamo un generatore per AI e NFT. Come vedete, il prodotto comunque a livello concreto esiste e offre qualcosa che è anche di facile comprensione per gli utenti che sono nuovi nel mondo delle criptovalute. E ovviamente possiamo arrivare alla conclusione che il progetto non è a livello di altri che hanno fondamentali reali sulla blockchain, però offre qualcosa di concreto e, come dicevo, facilmente comprensibile dalle masse. Cosa che tra l'altro si riflette anche sul prezzo. Guardate, dall'applicazione di MyCriptoEast possiamo vedere che questo prezzo infatti riflette un andamento del token fantastico, soprattutto recentemente. Guardate che trend super rialzista. Dunque è qualcosa di molto più simile a un'azienda tradizionale che ha deciso di lanciarsi nel mondo delle criptovalute con un token. Poi magari in futuro evolverà in un ecosistema decentralizzato vero e proprio. Ma al momento l'impressione, analizzando la documentazione, analizzando quello che offre, è questa. Però è vero anche che il come lo offre, lo offre in una maniera veramente avanzata. Hanno un reparto marketing, un team di sviluppo, almeno a livello grafico, incredibile. Guardate la pagina web quanto è ben fatta. Comunque i prodotti che offre sono anche intelligenti riguardo alle applicazioni e dell'intelligenza artificiale e tutti questi prodotti ovviamente hanno integrato il loro token che viene costantemente utilizzato e che addirittura viene bruciato per ogni transazione che l'utente fa per pagare il servizio. Il token si chiama CGPT e funziona appunto sulla rete di Binance Chain. Come dicevo, questo progetto sulla carta ha veramente poco a che vedere con i migliori progetti di AI e criptovalute. Infine, tornando a qualcosa di veramente più serio, abbiamo Fetch AI, una piattaforma blockchain che cerca di cambiare come i mercati, le persone e le aziende interagiscono fruttando la tecnologia dell'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico in machine learning. L'idea, diciamo, che è quella di creare un mondo dove degli agenti autonomi lavorano autonomamente per rendere tutto più efficiente, dal settore finanziario ai trasporti o alla logistica. Il fondatore di Fetch AI, Umayun Sheik, crede che l'intelligenza artificiale possa raggiungere il suo massimo potenziale solo se liberata dal controllo delle grandi aziende. Cosa che onestamente penso anch'io? E ovviamente sembra un sogno, sembra un mondo utopico in cui si possa liberare il mondo dal controllo delle grandi aziende. Tu cosa ne pensi? Potremmo disfarci dal potere delle grandi corporazioni? Comunque l'obiettivo è rendere l'AI disponibile a tutti, dalle grosse imprese ai singoli inventori. In pratica Fetch AI unisce AI e blockchain per fare una rete dove agenti autonomi fanno lavori specifici da soli, senza bisogno che un essere umano li guidi praticamente. Immaginate questo progetto come quel progetto che permetterà in futuro di far comunicare tra di loro tutte quelle AI che stanno nascendo al giorno d'oggi e che ovviamente avranno bisogno di comunicare in qualche modo tra di loro. Fetch AI sarà quel luogo, sarà quello strumento, strumento che tra l'altro gli permetterà anche di fare transazioni tra di loro, transazioni economiche. Anche qua il token Fetch lo troviamo sempre su BingX e mi raccomando, link in descrizione. E anche qua il token ha un ruolo ovviamente cruciale all'interno dell'ecosistema, che viene utilizzato come mezzo di scambio per pagare i servizi dagli utenti e anche far interagire appunto, come dicevo, i servizi tra di loro. Inoltre Fetch viene utilizzato per incentivare lo sviluppo e soprattutto la messa in sicurezza della rete. Ci troviamo di fronte a una svolta epocale nel mondo delle criptovalute e nel mondo di un'intelligenza artificiale. Ovviamente intelligenza artificiale e criptovaluta è ancora qualcosa di acerbo, è ancora qualcosa di cui non sappiamo se effettivamente ci sarà un reale bisogno. Però ci sono degli aspetti e soprattutto degli obiettivi di alcuni di questi progetti che mi fanno ben sperare. Questo perché sono degli obiettivi che mi sembrano sensati. Poi, se davvero si riuscirà ad arrivare, ad ambire a quel mondo un po' futuristico, in cui per esempio le AI comunicheranno tra di loro e potranno anche svolgere delle transazioni su delle blockchain tra di loro, questo sarà un mondo secondo me sicuramente migliore. Ma ovviamente la risposta non la sa nessuno. C'è da dire che questo tipo di percorso che sta prendendo il mondo tradizionale con l'intelligenza artificiale e soprattutto questa fusione tra intelligenza artificiale e criptovalute fa pensare che possa essere un nuovo tipo di uso, utilizzo per il mondo delle criptovalute. Un utilizzo che probabilmente fino a poco tempo fa non pensavamo fosse possibile, ma si può iniziare a pensare che possa diventare il vero caso d'uso delle criptovalute. Ma ovviamente ci sono tante domande a cui non possiamo dare una risposta al momento. Quali saranno gli impatti più importanti che avrà questa fusione di criptovalute e AI sulla nostra vita? E se tutto questo fosse solo una speculazione e cripto AI unite? È una cagata pazzesca? Come sempre mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, mi raccomando commentate perché qua le domande sono veramente tante e avere una risposta non è per niente facile. Sul progetto di Fetch AI ho parlato poco, questo perché un po' di tempo fa il mio ex socio Ale aveva fatto un bellissimo video al riguardo. Se ne vuoi sapere di più ti invito a guardare questo video. Per il resto ti ringrazio e alla prossima! Grazie a tutti!